Il secondo giallo credo da regolamento ci sta perché non si può mettere roba davanti al viso, però è conseguente, è un altro errore dell'arbitro. A noi se non ci sparano non ci danno rigori, basta. Vabbè è che siamo primi, ci sta 10 punti di vantaggio sugli altri, siamo il parma.